Ehi la ciurma, rieccoci qui con il nuovo episodio di Book of Demons. Dovrebbe essere episodio numero 12, sì, penso che sì. Allora, prima di temporeggiare troppo, visto che siamo circa a metà strada, lanciamoci con uno small, very small, 14 minuti, e un attimo cosa incontriamo, ci saranno i Goatman, dei Goatchanter, non ricordo che ci sono, Fargot, che a me non piacciono, Looneyghost, Arachnod, oddio, no, quei ragnetti l'ami erano un po' antipatico, Buttering Goat, non lo ricordo, Fargot, di nuovo, Hyperscaleserker e Arachnod. Beh, niente, ci andiamo. Ricordiamoci a questo giro che c'è l'Hiller in città che dovrebbe poterci curare senza sprecare pozioni. Allora, iniziamo già con un Fargot che mi rampe l'anima. Oh, quell'upgrade potentissimo. Sì, oh, ne valse proprio la pena di comprare quell'upgrade per il Shadow Sword. Ok, qua c'è la cosa della salute, per fortuna. Allora, cerchiamo di tirare giù questo. Questo sarà il Goatchanter, vero? Allora, via da tutta sta schifezza, per piacere. Allora, sto Fargot, via, via, via. Quando se ne va via sto giro, per piacere. Ma questo è un Goatchanter più potente o sbaglio? Questo aveva anche lo Scudino. Ma porca miseria, mi sono pigliato tutte queste farfalline qua in faccia. Allora, tira giù questo Goatman. Eccala. Ok, ma c'è sciopato. Ma in serio il discorso non è tanto del fuoco, il fatto di farlo schiantare contro qualcos'altro. Ovviamente. No, infatti, muore lo stesso. Allora, eeeh. No, nooo. Cos'è tutto sto casinato? Togliamoci un attimo qua dai piedi. Ho dovuto usare una pozione, mi spiace, ma... Ah, mi sta congelando il mana. Ma cosa è successo a mio mana? Ah, mi ha... Ciulato tutto il mana, è quello che... Ma qui vuol dire che non posso neanche più usare le carte. Aia! Finché non lo sconfiggo? Ma qui vuol dire che non lo sconfiggo? Fa malissimo... Quello affare... Eeeh! No, via! Eh, lo sapevo. Era un po' che non mi mancavano per niente gli zombie che esplodono. Aia! Ok, terza fase. Eh, sì. Ma adesso come vi recupero tutto col mana, però? Devo andare forse alla pozza del mana, ma no... Perché non mi ricordo le cose? Io, stupido che sono un'altra. Eeeh... Avevamo visto la cosa... No, cos'è questo? Mana, scroll... Aia! Vabbè, è tutto più complicato così giocare senza più gli oggetti equipaggiati. E porca miseria... Eh, ovviamente. No. Via. Ecca. Avrei dovuto girare là, stupido che non sono l'altra. Questo continua a fare il ping pong qua. Questo ti lancia anche tutte le rocce in testa. E non è qua che c'è il colso del mana. Ecco. Ma forse di qua c'è il cosino in mana. Perché c'è la vita quando serve il mana? E c'è il mana quando serve la vita? Hm? Oh, sti pallini qua. Se ne vogliono andare via per piacere. Sti pallini qua c'è una volta tanto. Allora. Qua c'è qualcosa... No, non c'è. No, lo zombie è esploso. C'è ancora un lanciere là. Ok. Ma non è già... Quanta... Quanta... Quanta c'è là sotto? Ah, sono tre. Almeno tre. Dove è andato l'altra qua? Non ho bisogno di drink. Ok. Vado a bere solo dall'altra allora. Avrei dovuto girare. Ah ok, level clear. C'era solo quello probabilmente da tirare giù. Di qua che si scende. Sì. Sì. Ok, pronti per la seconda parte. Allora, qua dovrebbe essere più... Fottibile. Speriamo? Non lo so. Becca. No. Ma siamo già con questi Fargold che... Mi stanno non antipatici di più. Ma almeno qua c'è la pozza rossa. Pure. Che cap... Oh, quanti Fargold ci sono? Almeno due. Eeeh, cos'è? Scorpions. Maremma. Mannaggia tutte le maremme. Ehi, sì, poi. Come tiro giù sta gente adesso? Allora. Vediamocene noi di qua per piacere. Eeeh. Che cos'è tutta sta roba? Eeeh. Non so se mi conviene effettivamente tirare giù lo scorpione prima di aver ripulito la zona. Però qua c'è... Un po' di gente rompiscatole, di sicuro. Porca miseria. Lasciatemi vivere, lettemi vi, lettemi vi, lettemi vi, lettemi vi. No, giù comunque si è rachnid per piacere. Ah, pure... Ah, vai via, 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 via. Che quello sta caricando? Oh, tiriamo giù questo. Eeeh, dove va? Ma come salta come un capretto? Cosa... No, cosa si è regato questo scorpione adesso? Porca miseria. Dei corpi elementari. Ma sono comunque delle marce a scienze. Ah! Ah, e niente. Ecco, ti pareva. Mannaggia la miseria. Allora... Quello è fatto, ma mi sa che... Non abbiamo ancora completato il tutto, eh. Questo sto caricando. Via. Ok. Quelli sono più facili da dribblare che non gli altri. Eccala. Eccala. Vediamo di non prendere il fuoco almeno. Chi è la... Chi è la? Ho visto una baradana a rompiscatole. Ok. Adesso abbiamo anche la possibilità di avere... ...de... ...la... ...la... ...la pozioncina del mana. Ok. Cosa ci restano? Un sarcofago e... ...2 e 3 barili. Che saranno da queste parti, immagino. Vai per fortuna. Ah! C'è le luci che io... Ok. Quando ci passi sopra. E il sarcofago. Ok. Buono. Fatto. Adesso lo sblocchiamo quello, vero? Dai. Guarda. Sì. Infatti. Cosa che abbiamo fatto? Sconfiggi 10 demoni. Brucia 100 mostri. Sblocca il settimo livello di carte. Ok. Che abbiamo già fatto. Abbiamo anche il porco speed. E poi le cuffie pure. I have a need for speed. Ok. Sonic è questo, ovviamente. Vai. Mettiamola. Prossimo. Angry Birds. E tiriamo su un po' di ma... ...a sto giro. No, però teniamo un attimo in città. Voglio vedere un attimo il curista qua. Ah, non è niente. Sono curato in automatica. E... No. Oh, ok. Oh, ok. Eh, be... Se questo è il caso, è inepidabile che la scuola si spiegherà, eventualmente arrivando alla superficie. Le forme fisiche di daemoni sono molto grandi e vengono in più forme e dimensioni. Un figlio, un pezzo e un uomo. Solo come i nostri amici dicendo amici. Ho trovato delle nuove rune? No, non credo. Posso upgradare sempre le solite robe. Niente di che. No, voglio vedere un attimo, ho discorso degli avatar nuovi. No, no awards. Ne ho uno? Very big, flexiscope, game size. Ah ok, vabbè. Ok. Ah no, per forza poi lo dobbiamo sbloccare. Ok, ma il share cos'è? Come funziona? Ah, su Facebook o su Twitter. Condividi l'avatar, non è una roba così esaltante. Farfly, ma perché non lo fa vedere Farfly? Sì, è il primo che avevo, ma lo fa vedere come non... Come ignoto. Poi qua c'è la scelta tra due. Ok, adesso per forza Angry Bird. Poi dopo qua ci sarà una scelta tra due, tra quattro, due, 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 due. È l'unico momento in cui siamo bloccati uno. Insieme a questi, effettivamente. Vabbè, 13% siamo. Ok, direi che per ora possiamo fermarci... Qui, cos'è questo? Ah! Due sette di carte! Non me ne ero accorto che potevamo fare sta roba qua. Ok. Va bene. Detto questo, il Golden Key non si può fare. Qua il card slot costa 25. Io mi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto, iscrivervi se per caso non lo aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo episodio e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.